allora di 16 settembre invito il segretario prego ore 11 1 frasca polara presente autorizzato la registrazione amore assente di napoli assente forzinetti assente gallè assente governale assente longo assente palumbo assente romana assente schembri assente 9 assenti uno presente allora grazie per tanto la mancanza del numero legale la segretà è inviata ai sensi del regolamento per il decentramento di un'ora quindi bisognerà ricollegarsi tra un'ora a fra poco grazie